Grave incidente questa mattina a Castelmarte sulla strada provinciale 40. Due auto che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate per causa ancora in fase di accertamento. Dopo l'impatto, una delle vetture uscita di strada si è ribaltata, travolgendo un uomo che camminava a piedi a bordo strada, ferito in maniera seria e ricoverato all'ospedale Sant'Anna. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7.30. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi, due vetture che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate. Probabilmente dopo che una ha invaso la corsia opposta. Come detto, uno dei veicoli si è poi ribaltato, investendo in pieno il pedone. L'uomo travolto è un trentenne di origine africana che stava andando a lavoro a piedi ed è stato colpito in pieno dalla macchina. Per l'impatto, l'uomo ha riportato ferite e traumi seri. Per i soccorsi sono intervenute l'automedica e due ambulanze ed è stato poi chiesto l'invio del risoccorso per trasportare d'urgenza il pedone al Sant'Anna, dove è ricoverato in condizioni serie. Ferite più lievi per le tre persone che viaggiavano sulle due auto. Una Seat e una Suzuki. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Al lavoro dopo lo schianto anche i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle vetture e rimettere in sicurezza la strada. Grazie. 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 Grazie.